Anche su OneFootball ha una notizia che il Milan sarebbe interessato al giovane Emanuele Vignato 2000 del Chievo. Ho un po' indagato sulla situazione. Indubbiamente Vignato è un giocatore che interessa non solo al Milan, è un giocatore di prospettiva. Fisicamente deve irrobustirsi molto, deve crescere molto, proprio sul piano, ripeto, sul piano fisico, perché è ancora un po' leggerino, ma il talento è certamente comprovato dalle sue prestazioni nella primavera e soprattutto in prima squadra, parliamo del Chievo. Ma potrebbe interessare il Milan? Innanzitutto ho letto di un costo intorno agli 8 milioni di euro, il Milan per un 2000 8 milioni di euro mi sembra un po' difficile che li spenda. Però indubbiamente il club rossonero ha sondato il Chievo, ma una decina di giorni fa, un paio di settimane fa e il sondaggio c'è stato, come praticamente c'è stato il sondaggio da parte di tante squadre italiane e addirittura europee, quindi spagnole, inglesi, è un giocatore che interessa, è un giocatore importante, è un giocatore soprattutto che ha un prospetto, il prospetto del giocatore forte, del campione mi sembra esagerato, bisogna volare fly down, volare basso, ma indubbiamente Vignato potrebbe essere uno dei talenti della prossima leva calcistica. Quindi sondaggio c'è stato, dire che il Milan punterà in maniera forte sul giocatore in questo momento mi sembra eccessivo. Per quello che riguarda una panoramica odierna, interessante il titolo della Bild, che sottolineava, il quotidiano tedesco, la Bild Zeitung, sottolineava che potrebbe esserci un interessamento per Kabak dello Stoccarda da parte del Bayern con Druckmittel, che vuol dire grazie all'intervento di Boateng. Non so bene Boateng che connessione abbia con Kabak, ma indubbiamente potrebbe esserci l'intervento del Bayern di Monaco. Quindi questa è una notizia della giornata uscita sulla Bild di un giocatore che è stato avvicinato al Milan. Non credo che ci siano imminenti operazioni straordinarie, anche perché Maldini tornerà da Ibiza dopo questo suo colloquio con Teo Hernández e deve ritornare poi operativo in sede anche Boban. Quindi operazioni, parliamo di Veretù, parliamo degli altri nomi che si sono fatti in questi giorni, in queste settimane, mi sembra che adesso non sia ancora il momento per le conclusioni. Direi dunque che è tutto, ma il Vignato interessa, il sondaggio del Milan, Kabak interessa al Bayern, Veretù il Milan, 25 milioni, non li spende mai. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegra.